Raramente il tradimento è nella coscienza di chi si assume la responsabilità in pubblico e in privato di insistere su alcune questioni. Io lo considero un fatto di lealtà ai diritti. Presidente, a me cose che non ho mai detto. Ha il diritto di replica. Ne prendo atto positivamente. Comunque, avendo un diritto di replica di cui giustamente ti devi avvalere, credo che sia onesto giocare a carte scoperte, anche perché di questo si sta parlando. Quindi, non credo che sia alto tradimento dire che alcune cose le possiamo e le dobbiamo fare meglio.